A Falcade ha anche l'esperienza della sled dog. A Falcade ha anche l'esperienza della sled. A Falcade ha anche l'esperienza della sled. Ho fatto un'esperienza bellissima insieme ad animali in questo posto fantastico. Direi che è stato un connubio perfetto. Devo dire che Bucky tirava un pochino. È il piccolo del gruppo e diciamo che si faceva sentire. Voleva portarmi chissà dove, però ho deciso di tenerla a Bada.